io vedevo chiede scusa no non so se me ne so accorta adesso che so le 3 36 pensavo che mi doiesse due minuti invece mi ha tolto fino a mo sto sudando freddo perché sto cliccando adesso su invio sapete che non non faccio mai questo genere di cose però credo che sia il mio secondo post serio in sei anni su instagram mi sta tremando la voce e mi viene da piangere pure un po perché è un grande cambiamento che ovviamente riguarda pure quello che faccio qua riguarda un po tutto mi sembra un po assurdo andarlo a legge però volevo far sapere soprattutto a voi se vuoi farlo ho cliccato mo invio lo sto pubblicando adesso ma c'entra qualcosa con l'anticipazione che hai dato a mezzogiorno di fuoco sì ok comunque per chi è abbonato su youtube si può recuperare gli ultimi 10 minuti perché c'è stata un post lungo cioè non ho mai fatto un post lungo dove faccio un discorso non l'ho mai fatto in sei sette anni infatti se quello se ho capito bene a fine live andate subito sul profilo di gianluca quindi no no non è troll non è troll infatti chi continuerà a chiamarmi sio significa che non avrà letto il post a grevo capito chi continuerà a chiamarmi flame significa che non ha che non ha letto il post si chiude l'era del sio da oggi in poi allora è ufficiale lo vogliamo dire davide davide puoi leggerlo tu lo stanno già scrivere tutti può diventare io non voglio che diventi un copypasta perché è serio mi sono impegnato l'ho scritto in questi 38 minuti allora vado ma poi andiamo su me sta a tremare la voce me sta a me sta a tremare le mani e darti giustizia non sto a scherzare oggi vorrei parlarvi di un cambiamento importante che riguarda me personalmente ma che anche un impatto sull'azienda nel suo complesso da quando sono diventato sio di questa azienda ho cercato di portare avanti una visione ambiziosa e innovativa per il nostro futuro ho lavorato instancabilmente con voi tutti per raggiungere questo obiettivo e credo che abbiamo fatto grandi passi avanti tuttavia mentre guardo avanti al futuro mi rendo conto che il mio lavoro come sio non è sufficiente per rappresentare veramente la mia visione e il mio impegno per questa azienda credo che sia giunto il momento di un cambiamento quindi con umiltà e rispetto per la tradizione dell'aristocrazia italiana vorrei chiedervi di chiamarmi da adesso in poi duca anziché sio ciò che può sembrare strano persino fuori luogo ma credo che il titolo di duca esprima meglio la mia intenzione di portare avanti la missione di questa azienda con passione determinazione ed integrità è un titolo che richiama la storia e la nobiltà ma che anche moderno e innovativo proprio come noi spero che voi tutti possiate accogliere questo cambiamento con entusiasmo e sostegno so che alcuni di voi potrebbero sentirsi imbarazzati o scettici ma vi assicuro che il mio obiettivo è solo quello di rappresentare meglio la nostra azienda e la nostra cultura grazie per avermi ascoltato e per il vostro sostegno continuo sono entusiasta di continuare a guidare questa azienda verso grandi cose come duca con affetto il duca miele gian duca vabbè un applauso per le doga per le doga raga